Oggi ne approfitto, registro un po' di video, poi li manderò pian pianino nel corso del tempo. Bene, oggi ti voglio parlare di un argomento che in realtà mi avete tirato fuori voi. Nell'ultimo video mi avete nominato la mission di vita. Ecco, la mission di vita, ragazzi, un argomento veramente complicato, complesso. Scarica ora l'antiprima gratuita del libro La Mette Quantica grazie al link che c'è in descrizione. È veramente riduttivo spiegarlo in un video, perché è un'esperienza. Capire la mission di vita è un'esperienza, non è un qualcosa che possiamo fare, prendo un libro, me lo leggo. Io per esempio consiglio molto il libro di James Redfield, Guida le profezie di Celestino più che altro. Ci sono i questionarii un po' per capire la mission di vita, però diciamo che in questo video voglio cercare di aiutarti. Dobbiamo partire da un presupposto. Che cosa è la mission di vita? Allora, qui però andiamo contro quelle che sono delle convinzioni religiose proprio nostre, cristiane. Noi crediamo che dopo la morte fondamentalmente si va in paradiso, chi all'inferno, chi al purgatorio, insomma. Poi dipende da quello che è combinato. C'è una visione diversa, orientale, che invece ti dice quello che fai in questa vita, in realtà, o che è fatto in una vita precedente, lo sconti col karma, quindi non devi per forza necessariamente aspettare di morire, ma il tuo inferno personale lo puoi creare qui sulla Terra. Quando meno te l'aspetti. E se prendiamo per buono questo tipo di, diciamo, di idea, che, vabbè, io un po' più aderisco a quest'idea, no? Che in realtà, quando moriamo, noi lasciamo il corpo fisico, ma poi c'è la possibilità di rincarnarci. E quando parliamo di rincarnazione, non mi riferisco semplicemente a rincarnarsi su questa Terra. Boh, l'universo è così ampio, è un'idea che forse ogni tanto andiamo a sperimentare, esperienze diverse anche da qualche altra parte, in qualche altra parte dell'universo, è qualcosa che mi solletica. Ora diciamo che sicuramente qui su questa Terra noi passiamo delle esperienze che ci permettono di fare cosa attraverso le varie rincarnazioni? Permettono di evolvere, permettono di lavorare su noi stessi e quindi ci permettono di fare quelle esperienze che normalmente, quando siamo pura energia, non possiamo fare. Ed è proprio grazie a queste esperienze che noi riusciamo ad andare oltre, riusciamo a evolvere anche come anima. Questa è un'idea carina, un'idea interessante. E cosa c'entra con la mission di vita? La mission di vita è proprio il motivo per il quale hai deciso di abitare questo piano di realtà, hai deciso di incarnarti sulla Terra. E quindi, se io mi vado a rifare, è una vecchia pubblicazione che era il Bar Celestiale e l'autore adesso, non me lo ricordo onestamente, è molto carino questo libro, sotto forma di metafora spiega un concetto. Prima ti dico la metafora, poi ti spiego il concetto. Lui dice, alla fine, quando le persone muoiono, vanno in questo bar, le anime, ovviamente, si incontrano, per cui davanti a una tisana, non so, c'è uno che dice eh, piacerebbe proprio lavorare sull'abbandono, no? Perché è una cosa un po' irrisolta, mi piacerebbe un po'. E l'altro, dall'altra parte, magari non si conoscono, dice ah, sai, se vuoi, quando ci incarniamo, io magari sarò tuo marito e ti abbandonerò proprio nel momento più bello, proprio quando tu sei innamorata e ti farò soffrire tanto, così che tu l'abbandono e lo senti proprio bene. E l'altra anima, che ovviamente, io credo siano assessuate le anime, dicono, ah, va bene, perfetto, bellissimo, giura che lo fai? E quello dice, sì, sì, guarda, se lo permetto, lo farò volentieri. In realtà fanno questo patto, quando ci si rincarna, ci si ritrova con queste persone con le quali abbiamo fatto dei patti, e attraverso questi patti poi viviamo delle esperienze interessanti, tra migliori interessanti, quello che ci fa soffrire, quello che ci fa male, il capo ufficio che ci fa una determinata cosa, e se fosse vera però questa, questa ovviamente è una metafora, non credo che ci sia un bar celestero da qualche parte, ma sotto forma di metafora, se fosse vera questa cosa, l'accordo con queste altre anime, che ci fanno vivere delle esperienze, molte sicuramente negative, alcune sicuramente grazie a Dio positive, purtroppo la maggior parte negative, in realtà sono sfide che ci permettono di andare oltre, e fino a quando noi poi non impariamo, restiamo bloccati sempre in quel, come dire, quel cerchio, non riusciamo, rimaniamo sempre lì. E allora la mission di vita, che cos'è? La mission di vita è lo scopo. Per capire lo scopo, devo imparare a unire i puntini, devo guardarmi indietro nel tempo, in questo senso la guida, la profezia di Celestino, di Redfield, è interessante perché proprio ti porta davanti a questa cosa, cioè ti fa creare la tua timeline, ti permette di vedere tutti i vari eventi, metterli un po' in ordine, e a un certo punto comincia a vedere quel filo conduttore, anche quelle cose negative che ti sono capitate e che a distanza di 10, 15, 20 anni capisci che grazie a quella roba negativa, che all'epoca era stata una tragedia, una roba immane, una roba pazzesca, però ti ha incalanato in un certo percorso. E qui ovviamente nulla viene per caso, sincronicità, io ci credo molto in questa cosa, e se allora credo nelle sincronicità, credo nel fatto che l'anima e energia nulla si crea, nulla si distrugge, credo nel fatto che l'universo è così enorme che non abbiamo ancora capito molto su come funziona veramente quello che c'è attorno a noi, sì, abbiamo capito più o meno come funziona la Terra, le leggi fisiche, adesso però ci sono cose nuove che vengono sempre fuori, e allora per capire lo scopo della mia vita devo entrare in un'ottica diversa, uscire dall'ottica classica, razionale, logica, il famoso pensiero logico nostro occidentale, per cui no, beh, una cosa negativa è negativa, basta, no? Se abbracciamo il pensiero orientale nulla viene per caso, per cui quella è un'esperienza grazie alla quale io posso fare un salto. Quell'esperienza in realtà può essere un paletto attraverso il quale devo passare per arrivare a fare una serie di esperienze che mi permettono di comprendere determinate cose. Se io dovessi voltarmi indietro di cose negative, ne ho avute, ma grazie a quelle cose negative io sono qui oggi a fare questo video davanti a te, se no stavo a fare tutt'altro, lo posso assicurare, proprio starei facendo un'altra cosa. E magari qualcuno, sei qui che sta dicendo, Eh, sarebbe stata una volta buona che ti toglievi dalle scatole, lo so, lo so, lo so, però, vabbè, che vuoi, l'universo ha voluto che sono qui davanti a te a farti sto video oggi, e mi spiace per quello che fa, eh, potremmi toglierti davanti queste cose che racconti. Vabbè, un consiglio, prenditi magari una mezza giornata, so che non avete tanto tempo, facciamo un'oretta e ti metti a riguardare, a mettere nero sul bianco, tutte quelle esperienze positive e negative che ti sono accadute, mettendole proprio in ordine cronologico. Le butti giù, poi chiudi, giorno dopo ci ritorni e le riguardi. Quindi prima fai questo lavoro di buttare giù queste esperienze, poi, secondo momento, torni, le riguardi, e lì, secondo me, cominci a notare i collegamenti, inizi a notare i collegamenti. Se non li noti subito, non ti devi preoccupare, cioè, ci ritornerei un altro giorno, ma a qualcosa inizierai a collegare, anche perché, attenzione, non è che io individuo solo uno scopo, a volte ci può essere uno scopo, però a volte ci sono anche dei percorsi, come posso dire, paralleli, no, che portano anche ad altre cose, poi dove tutto si incrocia. E questo è un lavoro interessante, io l'ho fatto tanto tempo a far su di me, mi ha sconvolto, perché poi, cioè, mi ci sono ritrovato completamente, a fare cose, perché poi, quando tu colleghi tutto, provi a immaginare il passo successivo nel futuro, no? Se A porta B, porta C, porta D, nel futuro E che cosa sarà? E la E viene fuori, io l'ho fatto, e poi, in quel momento, dove non ci pensavo minimamente, queste cose non le devi fare, seguendo troppo la logica, vai anche un po' di intuito, di istinto, ci ha azzeccato in pieno, lavorato, ed effettivamente, sono qua a fare i video, non lo sapevo in realtà che avrei fatto i video, però, sapevo, a un certo punto, ancora prima di fare questo lavoro, che avrei fatto questo tipo di lavoro, quindi, e questa cosa è tutto fuori. Poi, come dico sempre, tutto è mutevole, tutto cambia, tutto si trasforma, pensare che così è, così sempre sarà, questa cosa toglie da la testa. A me piacciono molto i Ching, o i King, che è proprio il libro dei mutamenti, e il libro dei mutamenti, senza di una cosa che è importante, che nulla è mai così, cioè tutto cambia, tutto può mutare, e proprio la tua capacità di adattarti ai mutamenti, è quello che ti permette di evolvere, di cambiare, e di andare oltre. Allora, a me piacerebbe sentire le tue esperienze, sentirebbe difficile, scrivi le tue esperienze qua sotto, dimmi quello che ti è accaduto, dimmi se ci sono state delle sincronicità interessanti, se effettivamente questo lavoro che già hai fatto, ed effettivamente poi hai scoperto la tua mission di vita, a volte non si scopre perché non è ancora il momento, cioè se tu scoprissi ora la tua mission, probabilmente poi potresti boicottarla, ma l'universo è saggio, se non devi scoprirla, non la scopri, punto, questo, ecco, non c'è il pericolo di usare a scoprire, o non la... no, se la scopri è perché devi scoprirla, se non la scopri, la scoprirai quando sarà il momento giusto, e mi piacerebbe che tu mi portassi le tue esperienze, ma anche le tue idee, tu magari non hai mai avuto nessuna esperienza di questo tipo, però mi dici, Fanelli, per me questa cosa non sta in piedi, oppure, Fanelli, questa cosa è interessante, zio Vince, mi piace, penso che sia così, 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 oppure qualcuno mi potrebbe dire, le vite precedenti non esistono, esiste invece la memoria genetica degli avi, ecco, su quello poi potremmo aprire un video, potremmo farne un altro, interessante, in realtà noi non abbiamo la verità in tasca, non ce l'ha nessuno, neanche io, io ti porto quella che è una mia idea, però per esempio sulle memorie degli avi, lì ho simpatia anche per questa idea, cioè, che in realtà potrebbero anche non esistere le vite precedenti, però, quello che ne ho fatto i miei avi, me lo porto nel mio codice genetico, e quindi anche a livello carmico, tante volte mi porto dietro il carico di altre persone, che non è il mio, ok? forse è vera una ed è vera anche l'altra, quindi non è che si escludono le vite precedenti, o una escluda l'altra, non lo so, cosa ne pensi? Scriviamolo qui sotto, e mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, like, pollicioni in su, condividelo con i tuoi amici, e oh, iscriviti al canale, iscrivetevi a sto canale, benedetti figliuoli dello Zio Vins, condividetelo con gli amici, facciamo crescere questo canale, e detto questo, ti mando un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video, ciao!